Di Vito, questo incarico che cambia da direttore sportivo a direttore generale vi siete presentati alla stampa e ai tifosi chiedendo scusa per l'epilogo bruttissimo e doloroso di un campionato veramente da archiviare in maniera negativa Lei ha ripreso ciò che ho detto, ho parlato di dolore che è una cosa intima che esizia sempre e quindi capisco tutti voi, capisco i tifosi ed è giusto quello che è stato detto, è stato fatto perché comunque più chi meno abbiamo fatto un campionato molto, tra virgolette, al di sotto dell'insufficienza quindi c'è poco da fare, c'è da avere tanta voglia, io come la proprietà abbiamo voglia, abbiamo dinamite per trasmettere, ma soprattutto per trasformare questo dolore in voglia di riscatto per tutto il popolare dino Nel corso della conferenza stampa lei ha fatto capire che la scelta per quanto riguarda il tecnico è già avvenuta c'è solo da definire alcuni dettagli e poi comunicarlo ufficialmente Sì, la settimana prossima sarà una conferenza stampa dove presenteremo il nuovo allenatore con lo staff c'è da risolvere piccoli dettagli ma all'allenatore e lo staff saranno presentati nel giro di 4-5 giorni Ecco, non le chiediamo il nome, però insomma è una persona di esperienza per quanto riguarda la Serie D ed è pronto eventualmente qualora ci fosse il ripescaggio Sì, assolutamente, noi ora dobbiamo pensare, non dobbiamo fare voli pindarici ma dobbiamo pensare solo e disclusivamente che la Rizzo disputerà il campionato di Serie D quindi gente che ha fame, gente che ha voglia, senza retorica e la consapevolezza che il margine di errore è molto molto limitato rispetto a prima Ecco, c'è il problema, fra virgolette, degli under, quindi dei giovani con la Rizzo potrà pescare anche nel settore giovanile? Assolutamente, ho detto già prima l'ottimo lavoro svolto da Muzzi, Tromboni che è sotto gli occhi di tutto, anzi può essere tra virgolette un fiore all'occhiello per il prossimo anno ma soprattutto è un serbatoio dove penso e mi assumo la responsabilità che ci siano 4-5 giocatori davvero interessanti e utili alla causa Rizzo Ecco, vincere un campionato non è mai semplice però le grandi società che per un motivo o per un altro si sono ritrovate in Serie D poi hanno attrezzato squadre già pronte anche per la Serie C hanno asfaltato il campionato Non è facile la Serie D, purtroppo non si vince con i proclami si vince con la cattiveria, con la voglia noi dobbiamo essere carichi e consapevoli che la Rizzo è tra virgolette la squadra che tutti attenderanno nel proprio girone quindi fare esperienza di ciò che è accaduto e partire con uomini veri che al di là del nome, al di là del curriculum hanno la voglia e ho detto prima al Presidente e a Muzzi ci siamo sentiti su un calciatore ho detto la cosa interessante è stata che come è stato chiamato nonostante sia un calciatore che è milti in categorie superiori ha detto per la Rizzo ci sono questa deve essere la nostra mission cioè andare ad individuare i giocatori che hanno voglia e che non vengono qui perché costretti oppure per fine carriera grazie grazie grazie